Ha interessato anche la Sardegna l'operazione dei finanziari del Comando Provinciale di Milano che nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica nei confronti dei due imprenditori bresciani hanno sequestrato 76 fabbricati e 25 terreni situati nelle province di Sassari, Brescia, Mantua e Trento. Gli immobili che appartengono ad una società di diritto rumeno hanno un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno riguardato la bancarotta fraudolenta di una società milanese che operava nel settore immobiliare, dichiarata fallita nel febbraio 2020 dopo aver accumulato dal 2010 un ingente passivo fallimentare soprattutto nei confronti di istituti di credito. I finanzieri hanno accertato una strategia finalizzata all'integrale svuotamento patrimoniale della società che deteneva direttamente e indirettamente attraverso altre entità giuridiche un rilevante patrimonio immobiliare e presentava un patrimonio netto e ampiamente positivo. Gli amministratori della società fallita hanno realizzato lo svuotamento del patrimonio aziendale e scrivono i finanzieri attraverso artifici contabili che hanno visto la trasformazione illegittima della riserva di capitale per versamenti in conto capitale in posizioni debitori e verso i soci, trasferimenti di quote societari immobili dalla società fallita ad una società svizzera e ad una controllata di diritto rumeno senza alcun effettivo pagamento. Grazie.